Purtroppo San Giuseppe Vesuviano nella provincia di Napoli si è verificato un grave incidente stradale che ha avuto esito mortale. La vittima è una giovane donna di 26 anni conosciuta da tutti come Gioia di nome Giovanna Ragosta. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 maggio lungo via Zabatta. La tragica vicenda è stata documentata anche da un video che è stato diffuso sui social evidenziando la drammaticità e la violenza dell'incidente. Nell'immagine si può osservare che l'auto guidata da Giovanna una Fiat 500 di colore chiaro ha cominciato a perdere il controllo ribaltandosi più volte abbattendo una staccionata lungo il percorso. Nel video si nota anche che la 500 guidata dalla giovane di 26 anni sfiora un'altra vettura che stava percorrendo nella direzione opposta sulla strada e che per una questione di pochi millimetri è riuscita ad evitare l'incidente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori sanitari del servizio 118 ma purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita di Giovanna. La 26enne è stata violentamente sbalzata fuori dall'auto durante l'impatto.